Ciao amici, pesco le carpe da più di 40 anni e senza dubbio l'esca che mi ha permesso di catturare più pesci di tutti è il mais. Un'esca che ha una sua storia nella pesca alla carpa in genere e non soltanto alla carpa ovviamente. Il mais è su tutte, poi dopo sono arrivate le bolis, gli impasti e quant'altro, ma se vogliamo spesso risolvere una situazione a nostro favore il mais ci toglie le casedette castagne dal fuoco. Ebbene via un'azienda che è sempre stata leader nel mondo della pesca per quanto riguarda la produzione di mais rivolto a noi appassionati pescatori ed è Pescaviva e Pescaviva ha deciso di fare un passo verso il car fishing e questo passo si concretizza in un mais prodotto espressamente per le nostre esigenze ed ecco allora confezioni da tre chili di due tipi naturali quindi mais senza aromi addizionali quindi al naturale appunto e al pineapple e banana una somma di due aromi che hanno fatto la storia del car fishing e della pesca alla carpa per la loro efficacia e quindi potremmo scegliere se rimane adesso il naturale o provare un gusto, un aroma, pineapple e banana, ananas e banana che ha sempre garantito catture straordinarie. confezione da tre chili pescaviva e adesso sotto a chi tocca